Il cammino in otto tappe di Fatele Brave ha toccato nel suo secondo step il tema dell'indipendenza economica e dell'educazione finanziaria, fondamentali per garantire alla donna piena consapevolezza e libertà. Se ancora oggi solo un quinto delle imprese italiane vede al vertice un'imprenditrice, sul piatto della bilancia appende anche il differente trattamento economico di genere. A parità di valore nello stesso lavoro gli uomini e le donne vengono trattati in maniera differente e le donne hanno sempre un salario inferiore. Perché? Perché intanto sono più occupate nei settori meno pagati, quindi nei servizi, nell'istruzione e per esempio le giovani studentesse non sono incentivate nelle materie STEM, quindi la matematica, l'informatica, la tecnologia e sono i settori che sono più ben pagati e anche più, c'è molta più richiesta di lavoro. Consapevoli del loro ruolo nella società le donne hanno fatto passi da gigante ma ancora molti ne devono compiere per la loro indipendenza. Quest'indipendenza è fondamentale che ci sia nel momento della disgregazione della famiglia in modo che quando la famiglia per qualsiasi motivo si rompe, si disgrega appunto, le parti possano avere una loro indipendenza economica e non debbano essere dipendenti l'uno dall'altro e soprattutto sottoposte a delle forme anche di ricatto dall'uno e dall'altro. La violenza è la forma patologica di tutto questo. Fate le brave, torno il primo dicembre alla Fornace Carotta con il terzo incontro dal titolo Come imparare a risparmiare e a proteggersi.